Siamo alla parrocchia di Santa Margherita, oggi 20 luglio, con il parroco Don Sabatino. Ieri si è concluso il triduo, ecco, in onore della Santa Patrona del rione Santa Margherita, dal 17 al 19, tre giorni bellissimi con le famiglie, i bimbi e i nonni. Sì, è stato un triduo bello, soprattutto giovanile, perché innanzitutto in chiesa abbiamo avuto Don Michele Romei, il nuovo sacerdote, ordinato il 30 giugno, che ha celebrato l'Eucaristia e ha offerto la riflessione per tutti noi, quindi ha celebrato con noi e per noi. E poi, in questi tre giorni, abbiamo avuto come se fosse stato il saggio di fine anno, perché abbiamo avuto il coro parrocchiale che si è cimentato in una serata meravigliosa, tra canti sacri e profani, con la tematica che la musica è la chiave dell'anima, e quindi ci vuole amore in tutto ciò che si fa. Poi abbiamo avuto i nonni, con i nipotini, i nonni del gruppo d'inglese, che l'altra sera hanno tenuto uno spettacolo meraviglioso, con il quale hanno saputo coinvolgere tutti quanti i presenti. E ancora poi, ecco, abbiamo avuto i nonni, il coro. Ieri sera in Apolè. Ieri sera in Apolè. Ieri sera è stato un trionfo, perché si è visto vibrare il cuore di tutti quanti, veramente grandi, piccoli, giovani, perfino i ragazzi, i ragazzi che solitamente cantano le canzoni di turno dell'estate, diciamo, ecco, tutti quanti coinvolti con il canto, con il ballo, è stata una cosa meravigliosa. È stata una festa di famiglia, perché questo è l'intento. Invece oggi, oggi è Santa Margherita, la festa di Santa Margherita, ci sarà questa sera, dopo la Santa Messa delle ore 19.30, che terminerà circa alle ore 20.30, mi correghe se sbaglio con gli orari. Qualche minuto prima. Qualche minuto prima ce la faremo allora. Sì, 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 ci sarà la celebrazione, l'ha inaugurata particolarmente, quindi il tempo necessario, ma abbondantemente per le 20.30, dopo la celebrazione, ci sarà la processione. Faremo il percorso che ci porterà all'inizio, faremo subito via Piccarielli e via Vestuti e andremo lì dove è sorto il nuovo palazzo, a via Cantarella, in modo da salutare quelle famiglie che sono venute, ma anche per dare un occhio attento al centro pastorale che prende forma. Ormai, ecco, dal terreno si vedono che si alzano i pilastri, no? Quindi si ha idea di quello che è avvenuto mano a mano e quindi l'opera cammina, cresce. Poi faremo la solita, ormai tradizionale sosta, al parco di via Buongiorno, perché quel parco è tra i palazzi di via Cantarella, via Buongiorno, via Micoloni e sotto via De Crescenzo, quindi abbraccia una fetta molto ampia del quartiere Italia e lì ci sono anche tanti ammalati, per cui la finestra e i balconi potranno seguire il momento di preghiera e noi potremo pregare insieme per loro. Poi continueremo per via Micoloni, andremo appena appena al rione De Gasperi questa volta, via De Mille, poi via Le Kennedy, via Scuola Eleatica e per via De Mille si tornerà in parrocchia. L'ultima cosa, Don Sabatino, se possiamo ricordare gli olari delle messe? Ecco, c'è stata la messa delle sette e mezza, adesso ci sarà alle nove, poi alle dieci e mezza, stasera alle diciannove e trenta e ovviamente il venti di ogni mese la messa con tutti i devoti di Santa Margherita.